Cari amici, un saluto da Natrusso. Voglio tornare ancora sul tema di Slow Food che, forte del monto che contraddistingue il suo marchio, buono, pulito e giusto, è un riferimento perché critica il modello di sviluppo imposto nel mondo dalle multinazionali del settore agroalimentare. Dal 2004 organizza Terra Madre, una kermess internazionale in cui si avvicendano conferenze, laboratori e presentazioni di progetti per una economia definita sostenibile, attraverso il sostegno alle comunità rurali di mezzo mondo. È una sorta di libretto verde di Slow Food che però va imparato a memoria dai suoi soci senza discutere. Buono dal piacere derivante dalle qualità organelettiche di un alimento. Pulito, prodotto nel rispetto degli ecosistemi e dell'ambiente. Giusto, conforme alla giustizia sociale negli ambienti di produzione e di commercializzazione. Sembrano dei belli slogan, ma queste sono le parole e i fatti? Chi sono gli uomini di Slow Food? Tra i soci eccellenti troviamo la King Baudin Foundation, una fondazione diretta emanazione della Casa Reale Belga, nel cui consiglio di amministrazione figurano importanti personalità dello Stato belga. La sua mission è supportare progetti e cittadini impegnati a creare una società migliore per dare un contributo duraturo a una maggiore giustizia alla democrazia e al rispetto della diversità. Ma da dove arrivano i soldi della King Baudin Foundation? Soprattutto dalle donazioni delle multinazionali. La sua diramazione negli Stati Uniti, per esempio, che è la KBFUS, vanta di avere lavorato con alcune delle principali società del paese. Ed è cita Johnson & Johnson, Starbucks, Levi-Strauss, Citi, Caterpillar, Wrangley, Nike, Coca-Cola, The Down Chemical Company e Pfizer. E soffermiamoci su alcune di esse. Per esempio, la Down Chemical Company e la Pfizer danno contributi a ONG europee che supportano progetti verdi ed ecosostenibili a livello locale e ha concesso lo scorso anno 1,6 milioni di euro in aiuti a cinque ONG europee che si occupano della prevenzione contro il cancro. Sembrerebbe una buona cosa. Ma chi è la Down Chemical? È un colosso, con la Monsanto, delle biotecnologie e produttrice di sementi geneticamente modificate, gli OGM. Attraverso la fondazione sostiene finanziariamente ONG europee che si occupano di progetti di salvaguardia dell'ambiente. Ma Slow Food non è contro gli OGM? Senza se e senza ma, come si diceva una volta? Ma vediamo chi è la Pfizer. È un colosso farmaceutico che ha recentemente iniziato a risercire famiglie delle vittime della sperimentazione del Trovan in Nigeria, un farmaco contro la meningite che 15 anni fa provocò una moria di bambini nello stato di Cano. Sempre attraverso la fondazione sostiene ONG europee che fanno prevenzione contro il cancro. È mica male la coerenza, direte voi. Evidentemente c'è una folgorazione sulla via di Damasco per tutti. A questo punto non apparirebbe così assurdo scoprire che Coca-Cola e Nike finanziano progetti che si battono per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Ci dobbiamo stupire? Di loro no, ma di Slow Food sì che ci stupiamo. Niente di nuovo se le grandi multinazionali attraverso fondazioni come la KBF, la King Bauding Foundation cercano di rifarsi una verginità perduta agli occhi dei propri consumatori che potrebbero vederle come responsabili delle ingiustizie sociali, dei disastri ambientali e di molte malattie mortali. Ma usano ONG compiacenti come cavalli di Troia all'interno del loro progetto neocolonialista. Sarebbe troppo sporco finanziarle direttamente investendo i propri fondi in quei territori renduti economicamente interessanti per la disponibilità di risorse, materie prime o mano d'opera. È questo il ruolo di fondazioni come la King Bauding Foundation. Indagando ulteriormente si scopre che la King Bauding Foundation è tra i due strategic partner della EPC, già uno degli sponsor di Madre Terra insieme alla Compagnia di San Paolo, ovvero della European Policy Center, un think tank europeo nato nel 1997 con l'obiettivo di lavorare sull'integrazione europea e sul ruolo dell'Europa nel mondo. Gente di primo ordine, infatti il suo presidente onorario è Peter Sutherland, già commissario europeo, già presidente della Organizzazione Mondiale del Commercio, famoso WTO, membro del gruppo Bildenberg, e ho detto tutto, e della Commissione Trilaterale, e ho detto di più, nonché ex direttore non esecutivo di Colton Sash International e della Royal Back of Scotland. Come dire che siamo ai vertici del sistema finanziario capitalista? Proprio quello che ha ditato da Slow Food, Terra Madre, come il primo responsabile dell'impoverimento delle popolazioni rurali di tutto il mondo e della distruzione della biodiversità del pianeta. Per difendere la biodiversità alle popolazioni rurali è giusto usare l'elemosina di chi sta facendo di tutto per distruggere entrambe? Slow Food parrebbe di sì. Evidentemente i soldi di certe multinazionali sono buoni, puliti e giusti. Ciao Petrini!